Se stai passando lui dal centro, quindi dietro dal centro, uscite dal libro che deve fare uscire se non è in casa, ma non mi ci ho mica fissato io dal centro, a dare le prestazioni. Vi ci siete fissati voi, uscite dal centro, signor Ie, permettete di caparmi, vado a vado a casa, vado a vado a casa, sono due casi. Stavate a sentire e dovete mettere in ritardo, da una donna guarda che voi, donate subito a liberare giù. Ecco però, che non ciò, aspetta, lasciatemi dire, non potete parlare a me o per non rispondere se questo è di persona. D'altra parte, anche voi ci dico dovete rispondere al danno che avete cagionato, cacciandomi dentro la giara senza potere che non volete più uscire. Ma signora Bocca, io non ci ho parlato perché da tanti anni faccio questo messire di Giacomo, e di Giacomo è comodato in ceminaia, tutte da dentro le sue mani, punti come l'ho sconata. Non me ne avrebbe avvenuto il caso di non poter riuscire.